Ciao a tutti, sono Irene Costantini, ricercatrice del Dipartimento di Biologia dell'Università di Firenze, affiliata al Laboratorio Europeo di Spettroscopia Non Lineare. Nella ricerca appena pubblicata su Science Advances, abbiamo mappato l'area di Broca, l'area deputata alla gestione del linguaggio nel cervello umano. Abbiamo quindi potuto analizzare la ricostruzione tridimensionale e l'organizzazione di tutti i neuroni a livello micrometrico. Con queste informazioni e le tecnologie sviluppate potremo confrontare cervelli normali con cervelli patologici per sviluppare in futuro nuove strategie terapeutiche.